...entusiasmava...era il nostro...era... ... nostro ospite... Vai vai Atila, il re del Mionni dove passa non cresce più un filo d'erba. Motore, Tata, due cilindri, quattro turbine in alimentazione, acqua. Motore, Tata, due cilindri, quattro turbine. Vai, Antonello, non c'è paura. Con un filo di giù, con una macchina di genere, non le ve coraggio. A tenere, Antonello. A tenere, Antonello, non c'è paura. Tutto, poco e fiamme. Con un filo di giù. Grazie. Alla manetta giù c'è il pentonello. La pressione arriva. E il risultato è questo. Secondo me il gioco vale la cannella. E la marcia lunga l'abbiamo messa. Va bene così va bene così. E i collettori intanto sono diventati belli rossi. Giuseppe Tonello è su Attila. E la marcia lunga l'abbiamo messa. E la marcia lunga l'abbiamo messa. E arriva tutto incandescente. L'abbiamo demolito le scintille dallo scarico. E arriva ma ha tirato la slitta fino a oltre i 100 metri. Sì c'è niente che bruci. Sono alimentati da quattro turbine. Siamo un po' zombie. Arriva la pressione incredibile. E' incredibile. E' incredibile. E' vera. E' vera. E' vera. E' vera. E' vera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.